Non si placano le polemiche sulla scelta del sindaco di Giulianova, Ivan Costantini, ormai ex civico, che ha annunciato pubblicamente di aderire alla Lega di Salvini. Una decisione che ha innescato un clima di odio e violenza poche volte riscontrato nel comune rivierasco. Dure anche le critiche dai rappresentanti della Lega all'opposizione in Consiglio Comunale di Giulianova e dagli esponenti degli altri partiti. Ma si sa che con una nuova legge elettorale all'orizzonte, che prevede il sistema proporzionale, il civismo sarebbe tramontato. E allora perché fa tanto scalpore la scelta di un partito da parte di Costantini? Non è la scelta del partito, è il momento in cui ha effettuato la scelta. Io penso che lui dovesse essere corretto verso i cittadini, si è presentato come un candidato sindaco civico. Oggi la città invece si ritrova un candidato sindaco iscritto alla Lega, ma non tanto come semplice aderente, ma quale dirigente, quindi che lavora per accrescere il consenso della Lega stessa, utilizzando anche il ruolo di primo cittadino che ha. Io penso che l'elettore dovesse essere a conoscenza di ciò. La partecipazione ad un partito è la scelta di un modo di far politica, di progetti politici e anche di valore. E quindi di come si si presenti davanti a alcuni problemi. Ma è giusto demonizzare la scelta di un partito? No, assolutamente. Io penso che oltretutto andiamo sempre più verso un sistema elettorale proporzionale. Io ho sempre scelto di stare all'interno di un partito. Il civismo con i movimenti hanno una durata temporale. Basta pensare al Movimento 5 Stelle. Se si vuole essere governo bisogna comunque essere all'interno di strutture organizzate come i partiti. Se si voleva far parte della Lega bisognava dirlo. Oltretutto nel comune di Giulianova la Lega fa maggioranza e opposizione. Un po' come si verifica anche nella maggioranza regionale di Marsiglio. Dove la Lega sta con Marsiglio ma poi gli fa l'opposizione. Come valuta la protesta a Giulianova? Questa protesta un po' troppo rumorosa forse? No, intanto sono contraria alle proteste con violenza. Assolutamente queste non le condivido mai. Credo che bisogna sempre dire in maniera negativa una protesta fatta con violenza. La libertà di pensiero è dire quello che si pensa in maniera civile, molto chiara e giusta. Ed è giusta anche da parte di quell'elettore che ha votato Costantini pensando che fosse un civismo che si richiamasse ad alcuni valori e oggi si ritrova altri. Grazie a tutti.